per conoscere uno dei suoi assistiti di punta il giovane Hubert Idasiak ragazzo della primavera del Napoli portiere che potrebbe essere forse la grande sorpresa del prossimo Napoli Juventus però andiamo per gradi andiamo soprattutto con ordine se ci dai una mano a far conoscere al pubblico di Napoli chi è Idasiak? È un portiere che ormai è da quattro anni a Napoli è arrivato dopo un veloce provino già il giorno dopo il suo arrivo a Napoli ne furono tutti diciamo rimasero entusiasti insomma della sua forza della sua esplosività fu fu già dall'inizio diciamo fu fu apprezzato un ragazzo che è serio un ragazzo che si si allena con costanza questi anni anzi è stato diciamo che i sacrifici che ha fatto sono stati anche il rapporto anche alle alle sue soddisfazioni sullo stesso piano insomma è bravo tra i pali deve sicuramente migliorare un po' il gioco con i piedi però la sua forza è soprattutto quella di quando entra in campo entra con una tranquillità assoluta non sente la pressione lo fa col Napoli l'ho fatto nelle giovanili con la nazionale polacca sai sono uno di quei portieri che è inconscio dei suoi dei suoi pregi ma riesce ad essere concentrato perché sa che ha ancora dei difetti che deve andare a migliorare migliorare solo con il lavoro quindi questo è una grande domanda però massimiliano è pronto per un esordio in serie a è pronto per un esordio contro la juventus perché il caso è bello che pronto no perdonami il gioco di parole è pronto è pronto ma io credo che io credo che alla fine quando scegli di scegli di di fare talcio e tu aspetti questo momento è il vero il professionista lo vedi quando si fa trovare pronto nel momento giusto ed è al posto giusto per per farsi sotto l'aspetto psicologico sotto l'aspetto tecnico sicuramente secondo me uno pronto poi in italia sai i giovani soprattutto in quel ruolo non 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 hanno tante chance perché perché c'è ancora quella tavica convinzione che il portiere deve giocare solo se ha una pluriennale esperienza ma se non gioca questa pluriennale esperienza non 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 l'avrà mai quindi voglio dire meglio buttarli subito nella mischia e vediamo come va però per caratteristica a quale portiere a quale portiere ti sentiresti di paragonarlo guarda io quando vedo ubert penso molto ad oblac perché hanno più o meno le o le stesse caratteristiche fisiche la stessa esplosività tra i pali e anche la stessa tranquillità nel gestire le situazioni di pressione quindi lo paragono a a quello portiere lo devo paragonare mi paragono a un portiere certo non è ai suoi livelli ha tanto da però diciamo come come stile come come diciamo come modo di intendere il ruolo è il quello diciamo è il portiere che mi ricorda ubert sì sì poi bravo nel parare i rigori certo dall'altra parte della barricata invece ci sarà un connazionale di idasiac parliamo di due eccetera che in questo momento è il portiere ovviamente la nazionale polacca ma anche un po' l'uomo al centro del ciclone invece per quanto riguarda la juventus in potenziale può arrivare a quei livelli e diventare magari anche il primo portiere per la nazionale polacca ma questo questo lo deciderà soprattutto il il suo curriculum e i suoi prossimi step da giocatore di prima squadra tu arrivi in nazionale dopo un percorso che fai nel nel club e poi comunque la polonia ha in questo momento veramente tanti portieri di ottimo ottimo livello penso a maierski penso a mista penso a duggischi che ho in 2005 penso a zelacioski ci sono tanti giovani portieri in polonia c'è un 2003 che gioca titolare con lo jahielonia c'è biegaschi che lo abbiamo visto nell'amichevole contro proprio con il bisla krakow proprio contro il napoli ci sono portieri di livello e diciamo che la differenza la fa anche poi il il fatto se ubert riuscirà questa è una cosa che stiamo già vedendo per l'anno prossimo di questo l'ultimo anno di primavera l'anno prossimo troveremo siamo già al lavoro per trovare una destinazione che possa continuare a crescere sarà il napoli o no non lo sappiamo però abbiamo già del delle società che apprezzano il ragazzo insomma società di serie b polacche allora io già quest'anno c'era una c'erano due squadre di serie a polacca che erano interessate al prestito c'era c'è una squadra francese a cui è piaciuto molto è un ragazzo e basta seguirlo per vedere che le doti ce li ha quindi adesso purtroppo in italia mandarlo in prestito in serie c era per il discorso degli under per il discorso del diventa impossibile quindi abbiamo aspettato per farlo restare un altro anno a napoli si allena con la prima squadra allenatore del dei portieri è un ottimo allenatore quindi diciamo che è un percorso che per quest'anno va benissimo e migliorerà anche non non avendo quel piccolo step in più di giocare con i grandi già da quest'anno l'ultima te la faccio invece sul rapporto che è il ragazzo con napoli ed il napoli perché questa è la sua quarta stagione in azzurro ha già respirato qualche panchina in prima squadra c'è qualche calciatore con cui ha legato di più dei grandi immagino anche il connazionale Zierischi sì con 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 gli un po' dai sì Zierischi gli fa anche molto da fratello maggiore questo c'è questo ed è importante portare che poi i polacchi sono un po' come noi italiani sono molto cercano di fare gruppo tra di loro ma Zierischi fa più di di essere è più di un semplice compagno di squadra questo me lo dice Hubert da sempre quindi poi ma con tutti i compagni lui ha una eh gli piace molto anche eh guardare Meret guardare Ospina per cercare di carpire qualche piccolo segreto qualche eh da portieri che hanno già un'esperienza sicuramente maggiore della sua quindi lui è contento di allenarsi con la prima squadra proprio per questo quindi poi col Napoli il rapporto col Napoli eh la verità è che che quattro anni a Castelvolturno per un ragazzino che arriva a sedici anni eh sono è stato un bel sacrificio eh perché poi finisce allenamento non è che ha fatto ha fatto veramente la vita più da monacale che d'atleta però diciamo che io ringrazio sempre Gianluca Gramma perché Gianluca è stato stato tutto quello che lo ha portato alla fine a Napoli quindi quello che lo ha visto per primo e che ci ha dato fiducia a me per aver aver avuto l'opportunità di portarlo in prova e ad Hubert eh che poi non è semplice non è semplice cambiare nazione non è semplice trovarsi in un contesto così quindi bravo bravo soprattutto il direttore Grava Massimiliano grazie mille davvero in bocca al lupo a te ragazzo. Crepi 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 forza Napoli. Grazie. Ciao. Ciao.